La società mi ha richiamato, quindi in un momento così delicato la ringrazio perché vuol dire che nonostante l'esonero e non ci voglio entrare perché non avete mai sentito una frase da me, il dopo esonero, non avete mai sentito una mia intervista durante le partite, che è facile dopo ogni tanto qualche sconfitta fare un'esternazione infelice, non mi avete mai sentito parlare perché so quanto è difficile. Sono qua per cercare di dare un'identità a una squadra, la mia, perché chiaramente se sono qui è la mia, credo che i giocatori abbiano le capacità per fare un buon campionato, a patto che si diventi squadra. Campitelli lo stimo, mi ha scelto lui l'anno scorso dopo l'annata di Sant'Arcangelo, accetto i consigli ma io non parlo di biscotti. Credo fortemente nel ritorno di Zauli, ho detto quello che era la mia indicazione, poi è chiaro che come ha detto anche il mister, il presidente è in cima alla piramide e quindi da parte sua ci deve essere l'ok, altrimenti diventa comunque complicato. La scelta di Zauli è stata prima la scelta di esonerare Nofri ed è stato, ripeto, un discorso di società. Sulla scelta di Zauli è stata una scelta ponderata. Dopo Lumezzane noi perdemmo una partita non giocata bene, la prima ad agosto, 40 gradi, abbiamo sbagliato l'approccio iniziale, poi l'avevamo ripresa, poi l'abbiamo persa con gli episodi e lì avevo già perso il castello di quello che c'eravamo costruiti. Quello è stato il mio errore.